Il Partito Democratico ha depositato una mozione di cui io e la consigliere Arezzini siamo i primi firmatari per chiedere alla Regione Veneto di realizzare il bacino di laminazione sulla roggia di Oma. Il bacino di laminazione sulla roggia di Oma è un'opera progettata dalla Regione Veneto fin dal 2003 che deve essere ancora realizzata e che permetterebbe di mettere in sicurezza dalle continue esondazioni della roggia, la zona industriale e le sue imprese, nonché tutte le abitazioni della zona di Sant'Agostino che soffrono ogni anno dell'esondazione della roggia. Chiediamo questo impegno alla Regione perché proceda senza indugi alla realizzazione di quest'opera idraulica.